Mi viene in mente una frase di Padre Pio, lui diceva, se non mi sbaglio, prega e spera, prega e spera, non agitarti perché la digitazione non porta a nulla, Dio è misericordioso e ascolterà la tua preghiera. E questa è una cosa nella quale io mi ritrovo tantissimo, perché tante volte noi preghiamo, però è un po' come dire, vabbè io prego, però intanto le cose vanno male, no, no, perché se uno prega in questo modo un po' parte sconfitto, invece pregare e sperare vuol dire credere in quella preghiera, essere sicuri che Dio ci ascolterà, è importante questo Padre Gennaro. Sì, è vero, è vero. Quando preghiamo mettiamo lì la nostra fede, cioè la nostra fiducia in Dio e sappiamo che quando qualcosa è buono Dio ci concede. Quando questa cosa è per la gloria di Dio, è per la salvezza delle anime, Dio ci concede. Allora abbiamo bisogno di questa fede, di questa fiducia e anche, come lei ha detto, di questa speranza, aspettare, pregare e aspettare, pregare e aspettare con fiducia.